eccoci ciao ragazzi ciao a tutti e soprattutto ciao a tutti indegni che guardano i video non si scrivono indegni di che parliamo di questo qua santuario mi viene da dire un bel capolavoro un bel capolavoro del fumetto francese di dorison e christophe becca uscito per mondatori comics fumetti fantastica sono uscite parecchie belle chicchette in questa collana è autoconclusive storie autoconclusive perché come sapete come spesso detto anche il mercato francese il mercato italiano è un bordello nel senso che certe cose che escono in francia qui escono o non escono o escono in 15 edizioni diverse o troncate non non escono tutte oppure se no sull'ancestorio scorpio ha capitoli ma quello non è il mio modo insomma di leggere storie io mi so sul comics boss ho guardato quelle che erano autoconclusive e l'ho cercato nel mondo dell'usato in questo caso volevo leggere qualcosa di back e ho preso questa mi interessava anche abbastanza la dramma poi c'è anche saviere dorison che è anche un'altra piccola certezza perché comunque ha scritto robe tipo undertaker dei colani west long john silver che devo ancora leggere quindi insomma ha fatto anche lui parecchie robette abbastanza bravo test e disegni appunto dorison e back insieme e colori oma reyes queste pronunce un po così christoph beck avrei voluto leggere anche prometeo ma prometeo sono usciti in italia tipo boh la metà di quelli che sono stati insomma che sono usciti in francia la serie che è questa se non sbaglio comic fumetti fantastica è finita quindi se non credo che andranno avanti quindi prometeo resterà boh inconcluso meno che non compreranno i diritti noi ristampurano la cosmo ma sinceramente se devo pensare a questo formato così letto in un bonellide magari pure in bianco e nero no mi dispiace no assolutamente no guardate che roba faccio vedere un po di tavole e poi parliamo un po respiro insomma un po la trama è quello che parla qui abbiamo un po di fantascienza esoterismo leggende voi potreste 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 minestrone di roba cagata no perché è bilanciato bene secondo me perché qui siamo praticamente in un futuro non molto lontano un sommersi un sommergibile militare americano credo si trova mi ricordo se americano mi sembra sì sommergibile americano trova praticamente un altro sommergibile della guerra fredda all'imboccatura di una grotta e c'è tipo un tempio strano chiaramente vanno ad indagare lì succedono un botto di cose c'è da mezzo insomma un demone diciamo così poi insomma dovete dovete leggerlo già dai tempi dei nazisti che si stanno a cercare insomma sto tempio cominciano ecco la la storia è praticamente si sviluppa dentro sommergibile e dentro sto tempio che da semplicemente da da sotto l'acqua poi coi scafandri tutto vanno dentro al tempio e vedono che c'è nel tempio quindi è tutta così tempio quindi profondità marine e sommergibile i dialoghi a volte ci sono dei spiegoni ma sinceramente non non mi hanno ammorbato assolutamente no scorre da dio tu avete sempre quello che succede voi avete sempre quello che succede e non ti tiene veramente incollato il santuario viene veramente incollato dei disegni della madonna i colori anche bellissimi c'è azione sembra un film cavolo questo qui potrebbe essere benissimo la sceneggiatura di un film è bello è bello 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 l'unica pecca se vogliamo proprio diciamo fa un po al pelo nell'uovo che quella anche magari forse la mia un mio tallone d'achille e che a volte alcuni membri dell'equipaggio i volti fai fatica un po a distinguerli chi sono chi non sono alcuni volti a forte sono un po uguali e quindi in certe vignette un po di azione un po caotiche se magari i personaggi non sono chiamati ben nome o se ho delle scene molto dinamiche fai fatica a capì a chi sta succedendo quella cosa lì preferisco quando magari a volte alcune storie dove i personaggi sono tutti caratterizzati un po diversi anche quasi uno è biondo uno c'ha all'occhiali però due tre personaggi sono un po uguali ho dovuto un po aguzzare la vista magari torna indietro una pagina per rileggere qualche balloon per capire a che personaggio sta succedendo quella cosa ma niente di magari chi è più navigato per certe letture magari fa meno fatica veramente veramente una bella storia una grafica che ve lo sto dire fighissima nell'usato se trovo io ho trovato praticamente a metà prezzo che ho preso con un'altra cosa quindi spedito e tutto ho preso a 7 euro che non presi due su vintage invece che non so neanche quanto costava sinceramente 12 13 euro mi consiglio cioè mi sento di consigliarvelo soprattutto se siete amanti al fumetto francese e delle storie un po adrenaliniche appunto fantascienza misto thriller misto che poi la cosa esoterica diciamo così demone anche la parte meno c'è tutta una parte dentro sommergibile anche tutta una parte psicologica che che è molto che è molto interessante diciamo il demone è un po n'escamotage per far appunto succede tutte ste robe dentro sommergibili alle persone ci sono due o tre personaggi chiave della storia e quindi non ve soffre mai sul demone pensando a sommergibile demone ma che sta cazzata no no perché il demone è solo veramente la punta dell'iceberg di questa storia c'è molto molto altro non so più che dirvi insomma piccolo capolavoro per quanto mi riguarda cercherò di recuperare altre cose su questo filone già viste sulla su questa collana lì insomma ve le riporterò anche fantascienza pura fantascienza più fantascienza più più fantasy belle robe ci sono sta collana è molto molto interessante detto questo se l'avete letto scrivetemi nei commenti a voi come sempre a voi vi è piaciuto se non vi è piaciuto spero che qualcuno insomma vi verrà voglia di recuperarlo e se così fosse e lo recuperate dopo che l'avete letto scrivetemi sotto sto video in privato su instagram su facebook e fatemi sapere insomma se voi consigliato bene se voi consigliato male e niente grazie a tutti del supporto come sempre ci vediamo al prossimo video ciao